Sono oltre 1.500 gli imprenditori che si riuniranno a Torino lunedì prossimo 3 dicembre all'OGR su iniziativa di Confindustria per rilanciare la necessità per il paese di realizzare più infrastrutture e per dire no allo stop ai cantieri, primo fra tutti quello dell'alta capacità Torino-Lione. Si tratta delle 33 sigle che lo scorso 10 novembre avevano consegnato al prefetto un documento con le stesse richieste nel giorno della manifestazione CITAV che aveva radunato in Piazza Castello oltre 40.000 persone. Oltre a Confindustria che radunerà sotto la mole il Consiglio Generale con la presenza dei presidenti delle associazioni territoriali di tutta Italia e delle categorie si sta lavorando per allargare quanto più possibile l'iniziativa ad altre associazioni di impresa. Al momento c'è l'adesione di Confcommercio con il presidente Carlo Sangalli così come di Confartigianato con il leader nazionale Giorgio Merletti e ci saranno anche i costruttori del Lance insieme al mondo delle cooperative con Lega Coop e Conf Cooperative. Un'assemblea generale, quella del 3 dicembre, che lancerà un messaggio chiaro e preciso al governo a due giorni da un altro step determinante nel braccio di ferro sulle grandi opere. L'incontro di mercoledì 5 dicembre a Roma tra Confindustria e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Luigi Di Maio e il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, che dovrà chiarire una volta per tutte se si intendano sbloccare i bandi di gara di Telt in attesa dei risultati della valutazione costi-benefici. Ultimo appuntamento di un mese forse decisivo per le sorti della Torino-Lione, il CDA di Telt, la società incaricata del completamento del tunnel di base, in programma il 17 dicembre nella capitale, data entro la quale Italia e Francia dovranno anche ufficializzare le loro posizioni sui 2 miliardi di gare che permetterebbero la realizzazione della grande opera e che al momento sono ancora sospesi.